Siamo tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri MidTerry e eccoci qui per l'episodio di chiacchiere d'occhio di MidTerry. Il fomo è una sola chiacchia per lui che non solo. Oggi non parlare di quello che è successo al Sony State of Play del 24 settembre. Pensai che io qualche giorno prima avrò distratto un video di acro sulla nuova PS5 Pro, sui prezzi, sui problemi, su quanto io pensassi su questa nuova console della mancanza dei giochi. E poco prima che uscisse il video vengo subito smentito a presto che annuncia di botto queste due play e soprattutto annuncia un bel po' dei giochi. E che forse questi potrebbero, come dire, un po' allettare i video giocatori a comprare la nuova PS5 Pro. Certo, già la console ha avuto non parecchie vendite, ma già hanno avuto molti lettori di disc e quindi fa pensare che sono già molti pronti a comprare la PS5 Pro con lettore e anche lo stendere verticale. Ma lascio stare questo, torniamo al PlayStation State of Play, un evento che è dato circa 30 minuti, poco più mi sembra, e che ha portato, ci ha fatto vedere, 20 giochi tra PS5 e PSVR 2, tra produzioni proprie e non solo. Quindi ora andiamo a vedere queste produzioni. Io sto sfruttando un video di IGN che riassume tutti i giochi in un minuto e andremo ora a studiare quali sono questi giochi e soprattutto a vedere un poco... se parlano un poco sia di questo altro atto, ma anche di quanto possono essere interessanti, per me oppure no. Poi scrivo voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma, ma, prima di iniziare, vi ricordo sempre lasciate like, commentare e condividere, supportare serie al canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti, multilame offerti e partecipare in attiva alla vita del canale, della comunità, delle sondaggi, richieste e discussioni. Inoltre c'è la curiosità di abbonarsi alla mia YouTube, parla e mangiare il pannello sui obiettivi e vantaggi, a cui badge e emoji, video che potete vedere l'anteprima, anche se ricadere l'abbonato e quant'altro. C'è la curiosità di abbonarsi alla mia Twitch con Twitch Prime, quindi andiamo per seguirmi e domani per supportare il mio lavoro. Bene ragazzi, andiamo subito con questo, eh, caralata dei giochi, con questo livello di vedere i titoli interessanti, io ho visto alcune, alcune notizie che avete trovato a prendere il telefonino, ti spunto le notizie. Ma adesso vedremo insieme, in toto, cosa PlayStation ha mostrato al suo evento, lo solo play, che è addirittura un antice di qualche giorno, il Tokyo Game Show. Che piccola chicca, quello dire, Tokyo Game Show, Ubisoft, mancherà. Tutte notizie per noi, amanti di essere iscritti, chi lo sa. Comunque ragazzi, passiamo ora a monetà, camp schermo, eccoci qua. Ecco qui, everything announced at Sony State of Play. Tutta a settembre, tutta a settembre, molto bene, io lo metto a play ragazzi, e parto subito col primo gioco annunciato. Il primo titolo, non è un rise, ma è Astro Bot, infatti sta raccontando a vedere sì, con 9,5 livelli, e 19 botte a salvare. Ricordiamo che l'Astro Bot c'è qualche giorno fa, a settembre, in settembre ha avuto un successo incredibile, direi più che meritato, e porterà in monetà gratuita, questo nuovo del sì, con 5 livelli speedrun, quindi livelli che si utilizzano i nuovi giocatori ad andare oltre i nostri limiti, quindi andiamo velocemente, ma anche i 19 personaggi, a cui per esempio riconosciamo Stellar Blade e Helldiver, solamente tutti i giochi che non possono mancare. Free dal 24, dall'inverno del 24, un attimo, mi metto un attimo pausa, abbasso anche me che qui è un po' alto, per me, non siete niente, ma per me è un po' alto. Il seguente gioco che vedremo è Midnight Walk, un gioco creato in Stepmosh, alz, The Midnight Walk, un gioco in Stepmosh, quindi di stile, appunto, sembra quasi, se non so, come c'è dei film di Tim Bartlett, Night Before Christmas, in cui c'è appunto la grazia di questi film, con personaggi che ogni volta venivano spostati e si registrava ogni movimento. E questo gioco sembra essere in questo stile, in questo motion, diciamoci, ha un sistema di modelli di argilla, con una storia di fuoco e tenebra, queste parole per descrivere questo gioco, e uscirà su PS5 e PS5 VR 2. Ecco, già sembra che in PlayStation voglia un po' anche su PS5 VR 2, che non ha avuto molti titoli, e magari questo finirà spinto proprio a cercare più gioco, perché fare un prodotto di altissimo livello, non creare anche gioco per questo prodotto, è un po' inutile. Altro gioco che vediamo qui, davvero molto interessante, pure questo, è Hell is Us, l'inferno è noi. Questo gioco, questo è il suo gameplay stato presentato, è parlare di una storia di madri e di mostri, e racconta da una bambina, e sembra essere un action vento, ricorda un po', se avete qui lo stile, anche Returnal, o, non se ne vedete, o Death Stranding, vedete qui, c'è, il piatto è molto simile a Sam Porter Jr. come movimenti, come stile, ma il di mostri mi ricorda molto Returnal, vedete qui, si è messo anche questo un gioco a quanto curioso, dire la verità, e vedere cosa tratterà, il gioco uscirà per il 2.25, non si sa tanto quanto uscirà, e, cosa che abbiamo detto prima, The Midnight Walk è già disponibile, se non ricordo male, quindi è già pronto, c'è già uscito, è una cosa che, se non ho mai fatto, fino a ora c'è un gioco, se non ho mai fatto, ma è tanto quando c'è un gioco, annuncio, e c'è il gioco che usciva, un po' come attore di Xbox, con Fire Rush, magari presto si sta muovendo adesso un po' meglio, la verità, tutto come marchi, come cose. Questo è il nuovo gioco, che si sta presentando, vabbè, per VR 2, e si sta di Metro Awakening, solo per VR 2. Il gioco è il segno del 7 novembre, e c'è questo nuovo software che si è presentato, e qui, vedete che è un gioco che sembra essere bellissima la qualità, sembra un po' di ricaccare, appunto, l'horizon, il gioco dell'horizon per VR 2, quindi un gioco stand alone per VR 2, magari con una storia a parte, che ci potrà intrigare, e ci potrà anche un po' di lore. Questo gioco è invece, altro gioco che, devo dire, sembra di stare con le grafiche, con stile grafico, stile artistico, che si chiama Archeage Chronicle, dovrebbe essere questo il nome, un nuovo RPG, e mentre nelle Medioevo Fantasy, e sarà disponibile, non c'è un dato di uscita. Ok. Questo è un gameplay del gioco, con il mestiere del gioco, ma anche il gameplay, cosa che è da un punto in più, perché mi sembra che sarà un po' di gioco, per non solo qualche teaser così e quella, e qualche Archeage Chronicles, di cui non si ha però una data. Dopo questo, abbiamo avuto l'arrivo di Palm World, su PlayStation. Infatti, il Palm World non è anche su PlayStation, gioco un po' stile Pokémon, un po' più action, un po' FPS, che è avuto anche, per me, con Nintendo, non tanto per i suoi giochi, per i suoi personaggi, che sono, appunto, una copia dei Pokémon, per molti aspetti, ma più che altro per la meccanica della sfera, perché, diciamo, della sfera lanciata, per catturare i vari Palm World. Chissà se Palm World avrà lunga vita, speriamo di sì, perché se arriva a PS5, dopo un po' verrà cancellato, però stanno che intendo attacchi i Palm World, speriamo che non per i mostri, anche perché mi devo la mano, ci sono sviluppatore, che è stato spinto a creare questi mostri di Palm World, questi esseri, non si amano, tutti questi esseri, copiando per molte volte, quelli più famosi di... quindi, scelta curiosa. Comunque, Palm World arriverà su PS5, immediatamente, appunto, che è stato presentato già da oggi e fuori, e ora parliamo di Luna Remastered Collection, un gioco classico, un gioco RPG, diciamo, una perla, di epoca... di qualche anno fa, e che arriverà, sui 5.6.4, durante la primavera 25, secondo me sono due titoli, se non mi ricordo male, dovrebbe essere, ecco, Sivest Star Story e Atena Blue, ci sono due titoli, oh, questo è un altro titolo, un po' retro, sembra quasi, Tattaruga Ninja, ma in realtà è Shredder, Shredder Revenge, Shredder è il cattivo, questi, ah, se non male, questo è, un DLC, di Tattaruga Ninja Mutant Teenagers, se non mi ricordo male, sì, e che dopo uscire, eh, con il nuovo sonaggio, è il primo esser, non c'è una uscita, va bene, fermatevi un attimo, fermatevi un attimo, che c'è qualcosa altro di mezzo, no, altro gioco questo, che dovrebbe essere, se non dico male, Fancy Neo Dimension, un gioco RPG, stile molto, RPGJ, questo è già, pari in sostile, così, di comandante a turni, ecco, che uscirà, scusami, perché sei così veloce, calma, non uscirà le re, con calma, un gioco uscirà, dal dicembre, 2024, PS5 e PS4, ecco, gioco così, con questa, che non hanno, una grande potenza grafica, farò scelto anche PS4, ci stava un gioco, se lo vuoi fare bene, farò scelto PS5, non per contro PS4, ma, allora perché fai come PS5, comunque, questo gioco, non ha una data di uscita, non ha una data di uscita, è, altro di, che è già presentato, ma è stato ripresentato anche qui, al sito pre di PlayStation, è Dragon Age, The Velgard, il gioco, che dovrebbe essere, uscire, nel 2005, mi ha dato la data precisa, è che, c'è mostro questo, boss fighting, questo Dragon Age, Dragon, ah, ecco qui, scusate, 8 per, 38 per 24, eh, mi sono, perdonate, purtroppo, faccio anch'io i miei errori, questo, per essere un altro gioco, a tinte horror, di, Leicaos, ricordo male, mi puoi leggere, sì, ed è, un Dessie, di, fai immaturato, un Dessie, re, Alan Wake 2, però, questa ambientazione, mi ricorda molto, il burro control, che si trova, in, appunto, in control, quindi, è possibile, che ora facciano, incontro dei mondi, che già abbiamo visto, in Alan Wake 2, o nel control, alcuni, richiami, a entrambi i giochi, chi lo sa, chi lo sa, questo Dessie, è la prima volta, sembra, una vera, ah no, uscirà a ottobre, però, quando, non si sa, a ottobre, esce a ottobre, questo altro gioco, in VR, ed è, se non ricordo male, è, Hitman 2, anzi, Hitman, World of Assassin, c'è un gioco, che deve essere, solo VR 2, e ci sta, un gioco VR, di, con, con Hitman, quindi, PS5, che spinne molto, su, l'VR, è, uscirà, a, dicembre, non sono date, uscirà a dicembre, cioè, esce tra due mesi, tre mesi, ma tu non sai, il giorno deciso, bene così, bene, passiamo al prossimo titolo, che dovrebbe essere, Soul Revere, a The Legacy, o Kane, Soul Revere 1 e 2, questo è un altro, remastered, in essere remastered, che dovrebbe uscire, per dicembre 24, altro gioco, storico, molto, molta moda dai fan, vecchia data, più che altro, sembra un restyling, di texture, di ambienti, un gran lavoro, di remastered, e questo è un peccato, cioè, fare qualche tecnologia, in più, per svilupparlo, magari, cioè, vedete qui, è un restyling, appunto, delle texture, niente di più, niente di meno, cioè, un po' un peccato, questo, devo dire, un po' di più, ci stava, spero che non lo vendano, tipo, a 50 euro, perché è il gioco, che fan vorrebbero, bene, passiamo a questo titolo, che si chiama, Fear of the Spotlight, parola del, sforzo da per essere, tipo, solo, legato a questo, un belico, adesso è un momento, di alterazione, precisa, che è un gioco, che uscì, horror, attenti, horror 20, che uscì, da il 22 ottobre, Super 564, è stata ispirata, a horror, della PS3, un, infatti, mi ricordo, un po', se ci pensate, quindi, un gioco, vecchissimo, stile, che però, non vuol dire, che non sarà, un brutto livello, vediamo un po' che sarà, oddio, inquietante, quello sembrava, così, Samara, bene, ecco qua, arriviamo in top clue, il, controllo, di Fortnite, ci voleva proprio, il controllo di Fortnite, vabbè dai, non è male, sticamente, è carino, molto, ground, molto, da street art, interessante, questo, invece, è un gioco, interessante, si chiama, Towers of Agasba, al 19 novembre, questa è una cosa disponibile, è un survival, con costruzione di base, con il suo online, che su PS Plus, ovviamente, se è online, PS Plus, perché c'è l'online, con l'abbonamento, ovviamente, non c'è questa cosa, cioè, se è intro, ok, già deve essere l'abbonamento, è un genere, diciamo, un survival, di costruzione, interessante, però, vedete qui, quanti personaggi, vedete se la console, riuscirà a, far muovere, tutti i personaggi, senza avere le lagre, perché, i personaggiare, in schermo, più difficile, appunto, che la console, riesca, a spingere, forse qui, appunto, se non è proprio bene, spingere questo, ah, Nasty Warrior, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato, quindi, ecco qui, scusate, che io leggo qui l'articolo, ma manca alcuni giochi, come appunto, Towers of Agasba, o anche, mancava, e, dov'è, fate segnare di me, ci abbiamo visto, Verga abbiamo visto, e, sì, questo di qua, manca Towers of Agasba, ma c'è, appunto, Nasty Warrior, perdonate, perché, mi guardavo un gioco, che avevo visto, però, non l'ho confuso, è quello, Nasty Warrior, Origins, un gioco, di scelte di dicembre, nel 25, della, diciamo, della serie, Nasty Warrior, un gioco interessante, un mix di storia, e gameplay, e, abitamente, però, nella parte orientale del mondo, e, devo dire, che, potrebbe essere, però, quanto è sempre interessante, soprattutto, perché, se ricevano un'altra qualità grafica, con tutti questi personaggi, vuol dire, che, c'è un bel lavoro dietro, purtroppo, ripeto, questo è un problema, quando fai giochi, con tantissimi personaggi, di guerra, ma, vabbè, passiamo, quindi, al prossimo, questo può essere, Monster Hunter Wilds, questo gioco, lo abbiamo mostrato prima, si presenta anche qui, su PS5, su PlayStation, su Starplay, gioco per uscire, il 28 febbraio, il 25, Monster Hunter, una serie, insomma, la conosciamo tutti, cacciano i mostri, ovviamente, è l'unico gioco, che ha, molto seguito, vediamo un po', se questo Wilds, rispetterà, anche se, devo dire, che, quello che ho visto, non mi è spiaciuto, bene, questo, non so, cosa sia, sarà forse, The Towers, possibile, mi sa di sì, eccolo qui, ragazzi, sarà questo, dico che è questo, non so perché, un gioco, Survivor, naturale, con molti esseri, ecco qui, The Towers, o Ag, Agasba, che è un Survivor Construction, come se vogliono, appunto, costruire, Coming, 2, 5, nel 94, unirli, access, per il momento, dire che, l'elementazione, così, stile, fantasy, naturali, con vari ambienti, anche lo stile, non mi piace, questo sia cartonesco, che richiama un po' Kena, devo dire, molto, molto bello, dire, artisticamente, vediamo un po', se questo gioco, convincerà oppure no, mettiamolo così, ecco qui, non è il 24, questo è il pezzo, che tutti, non vorranno, no, vabbè, lo scherzano, questo è un gioco, Horizon Forbidden West, no, Horizon Adventure, un gioco, come se sei la nonna, con moneta Lego, riuscito il 24 novembre, 24, sembra essere, ah, chiaramente, c'è, il moneta Lego, divertente, funny, un po' comico, che ci sta, in questi giochi, qui, per i pre-order, per i vantaggi, e ora, ragazzi, quello che non c'era, fosse bisogno, sì, Horizon Zero Dawn, Remastered, e allora, io sono, stato, un amante, di Horizon Zero Dawn, è un gioco che mi ha piaciuto moltissimo, ho visto anche Forbidden West, mi sembra che non l'abbiamo portato ancora sul canale, Forbidden West, ma, Horizon Zero Dawn, è, sicuramente, un gioco, molto bello, cioè, ha molto, mi ha colpito, dalla storia, dal trame, i colpi, scena, chiaramente, tu sei in questo mondo, ma puoi scoprire le cose, non vorrei dire altro, perché non le sono ancora giocato, ma davvero, sono tante cose, rivelazioni, che sono le colpi di scena, è un gioco, che c'era per PS4, qualche tempo fa, fa l'uscita, su PS5, Remastered, non lo so, ragazzi, se o me, visto che parlavano delle PS5, c'è il busto, su vecchi gioco, ho fatto fare, un boosting, non so se questo Remastered, avrà un senso, oppure no, allora, andiamo un po', a girare la Remastered, allora, oltre, riscita di constazione, di riregistrata per occasione, è una nuova mano di vernice, per portare la grafica, in pari, c'è un gioco uscito, quanto, 5 anni fa, 6 anni fa, già, bisogna dire, una Remastered, ovviamente, il launch, è venuto del 31 ottobre, però, per chi ha Zero Dawn, per PS4, dovrà solo pagare, di share in più, il, diciamo, la differenza di prezzo, e io voglio dire, ok, non mi spiegare, come va della Swords Part 2, può di share in più, ma della Swords Part 2, è un gioco che forse era uscito un po' prima, se non è normale, di Zero Dawn, o almeno, non lo so, cioè, la Remastered si è fatta bene, è sembra una cosa buona, però, sarà fatta bene, io ho già visto la Remastered poco fa, di un gioco molto vecchio, in questo caso, sono stato cambiato la texture, qualche video fa, mi ho visto appunto, la Remastered della Collection, di Soul River, di Legacy of Kain, quindi, chissà, se questa Remastered è fatta di buon livello, lo speriamo, che alla fine, insomma, del creatore di Horizon, ha avuto buoni, buoni, diciamo, buoni lavori, spero che sia così, o c'è anche un Desi, di Star of Blade, con un fotomod originale, un original soundfrake, quindi, così, un Desi che va aggiungendo solo delle, infatti siamo S13, ma anche, un, ecco, le sembianze di Nia Automata, questo è un Desi, che sinceramente, va, così, tanto per fare, spero che sia gratuito, andiamo per prima di una fotomod, secondo il logo, e, ok, ha tornato più avanti per quest'anno, allora, non si sa quando uscirà, e neanche se costerà, però se sei gratuito, ok, magari dicevo che la fa per il fan, comunque, passiamo ora a questo evento, che è una nuova con PlayStation, perché, uno pensava, se è andato via Jim Ryan, vanno via, le, le cover delle console, con i vari colori, e invece, no, ci sono, nuove tre colorazioni per PlayStation, Smeraldo, perla, blu-violet, in questo caso, ci sono qua, i nomi precisi dei colori, esatto, c'è qui blu, bianco e verde, indico, perla, e turchese, sia per console, che per, le controller, molto carine, molto belli, ok, ma, quanti ne hai fatti, continua a fare così, indico, PR, e tell, da 3 ottobre, le cose importanti della vita, poi c'è qui, la base 5, non è, con, vedo qui, le differenze, con i nuovi giochi, e quant'altro, ripeto, se fai PS5, con il solo, i giochi, che sono già usciti, non mi alletti, diciamo, non mi fai sentire, che giustifichi, la cazzo, la PS5, però, questo, se lo play, mostrerà, altri giochi, interessanti, che forse, posso dire, non per, quando mi riguarda, ma almeno, mi va a dire, ok, PS5 Pro, fai anche giochi, moderni, che, forti, che, hanno bisogno di potenza, e quindi, giustifichi in questo modo, PS5 Pro, e non solo una, un miglioramento della grafica, e poi, ragazzi, qui, arriva alla chicca finale, la chicca finale, che è, ovviamente, il nuovo, che è un bridge, come la, bridge of spirits, no, 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 il nuovo, la perla finale, è, un nuovo capitolo, un nuovo gioco di Sucker Punch, che è, Ghost of Yotei, sembra essere, un seguito di Ghost of Tsushima, in realtà, è un seguito più creato spirituale, che non ci sarà, Jin Sakai, c'è un nuovo personaggio, al femminile, e, con un nuovo fantasma, che si chiama, Atsu, simbolizzato, non a casa da un lupo feroce, che sembra accompagnare, nella sua ventura, c'è un, sta commentando con questo lupo, che, non lo so, mi mancherà, mi mancherà, un po' di Sucker, il cedro, mi mancherà un po' afferciato, a quel, al, non so, il fantasma di Tsushima, e questo nuovo gioco, allora, un po' di, il gioco è inventato, nelle imprese del monte, Yotei, nel 1603, quindi, per il loro, adesso mi sembra, il decedente, ricordo male, che, opposto, non mi ricordo, al momento, e, tra i dettagli, appreste dalla clip, c'è il ritorno, della moneta, Kurosawa, in bianco e nero, quindi, come, come, c'è stato un, un gioco, Traic to Tuyomi, secondo me, questo è il nome, anche appunto, un film sui samurai, e qui nero, con un stile molto, da finire, sui samurai, e qui nero, 2D, ma io voglio sapere una cosa, Kurosawa, su Shima, in che anno, è ambientato, permettimi questo, allora, nel 1274, quindi, è molto, posso scendere, mi sono confuso, sono stati nel 1500, i mongoli, infatti i mongoli, arrivano in epoca, medievale, di alto medievale, perdonatevi, quindi, c'è questo corso, Oyo Day, molto, diventate, 200 anni dopo, questo nuovo personaggio, che, Atsu, che ha un, come è un lupo, vediamo un po', come, si, sarà utile il lupo, magari, appunto, come in, Fak 5, combattere, insieme a noi, o lo mandare, una ma scoperta, e quant'altro, lo stile è quello, ed è sempre molto bello, vediamo se la storia, sarà, intrigante o no, che vedo, per me, l'importante è la storia, perché, tecnicamente, so che, Suck and Punch, fanno un gioco, di buon livello, guarda qui, che il lupo incontra Atsu, e diventano amici, così, fa il gesto, e il lupo diventa già, il suo amico, davvero, molto interessante, devo dire, il gioco, sembra essere, queste bande nere, avrà, quindi, sia il punto di costo, Sushima, e, ragazzi, quindi, torniamo un attimo indietro, torniamo indietro, allora, è sicuramente, molto ricco, e conciso, che 30 minuti, fare l'evento di giochi, mi fare l'evento conciso, è quello che, forse chiederò molti fa, non troppe parole, non parole per gli azionisti, sui dati, di vendere, e quant'altro, ma solo, ciccia sui giochi, come un po' fatto Xbox, sembra un po' riprendere questo stile, ossia, appunto, giochi, su giochi, giochi, su giochi, giochi, anche, che usciranno, all'uscita, subito, gratuiti, oppure, che, per chi avrà il gioco, avrà anche, nel mio desiderio, di adesso, voi, uscire subito, a personale, evento, e questa è una scelta, sicuramente, molto per me, a zeccata, perché, fa in modo che, non è un evento, in cui è un gioco, che magari, non c'è alcuna data, tipo Ghosts, o Yotei, Yotei, giusto, non abbiamo una data, però, mi fa riuscire questo gioco, bel, che sarà, forse, che sarà sicuramente, non forse, sicuramente, l'IP più grossa, di questo evento, è uno, delle, dei saldi, insieme a Gosushima, i vari Uncharted, insomma, giochi, appunto, le IP importanti di PlayStation, e, anche se c'è una data, però, mi fa riuscire altri giochi, che, o, siccome presto, c'erano nei messi, precedenti, quindi, come evento, sicuramente, devo dire, che l'evento, ben fatto, contenutisticamente, perfetto, a mio parere, e, darei, quasi, un voto altissimo, perché, alla fine, un voto altissimo, è un ottimo evento, è un ottimissimo evento, certo, ci sono alcuni, dubbi, ripeto, sull'ultimo, la remase di, Legacy of Kain, che, un gioco vecchio, ma, me lo facevi, una remase completa, non del gameplay, ma, mettendomi, appunto, una, non so, un compasso tecnico migliore, sarebbe un po' più felice, invece, solo della, sverniciata così, di colore, sui, sui personaggi, sulle texture, e quant'altro, altro titolo, che mi ha incuriosito molto, sicuramente, sono i vari giochi, che, speri, adesso, non mi ricordo, per dare a parlare, la mia, e la mia ora, c'è, Dynasty World of Origins, mi sembra davvero, un gioco molto interessante, e, come personaggi, con, cioè, come storia, e anche, come meditazione, e vediamo anche, se il tecnico sarà, barra, Towers of Agasba, mi è sembrato anche questo, molto carino, devo dire la verità, e poi, metterebbe quasi Fear of Spotlight, però, le Spotlight, però non sono amanti tanto di oro, ma devo dire, che è pure quello, intriga, allora, il distrito di Alan Wake, bello, perché potrebbe unire, i mondi di control, definitivamente, e di Alan Wake, quindi poi, aprirci magari, un futuro gioco di Alan Wake 3, chi lo sa, e, sicuramente, altro titolo interessante, non si è visto, eh, Sonic the Edge Dog 3 e Movie, ah, questo è che è il film, che noi stiamo andando messo, e, altro che interessante, che ho potuto vedere, non Power World, Archeage of Chronicles, sicuramente, un gioco davvero, che ha un suo vecchio, uno dei principi, di reale vale, che davvero, dove sta, dove sta, il Fantasia, e, dopo, eccolo qui, Chronic of Chronicles, questo gioco, mi sembra anche questo, molto, molto carino, per la verità, però, un po' più gameplay, non così poco, mi vedo anche un po', con l'amministrazione, tipo, The Black Tale, Medioevo, anche il, cioè, il soldato, è uno stile, appunto, alto, Medioevo, pre-renesciamentale, come stile armature, quindi, dovrebbe essere quello, se, se, solitamente realista così, dovrebbe essere questo, l'evento, poi, c'è anche, El Iva, El Is Us, molto, mi intriga molto, vorrei giocare, ovviamente, quello che mi stusse più, artisticamente, meno nel gioco, ma, provrebbe anche piacere, chi lo sa, è The Midnight Walk, perché, pure quello, ragazzi, c'era un, anche, Xbox ha fatto un gioco, in stop motion, questo stile, non si, sembra quasi un po', copiare, è un po', copiando Xbox, ma, secondo un gioco, con lo sviluppo, ci vuole molto tempo, per svilupparlo, sicuramente, non è una copia, se, non è avuto la stessa idea, per Xbox, l'ho letto prima, quindi, molto, pensavo, PlayStation, non l'ha copiata, no, in realtà, PlayStation, un gioco ci vuole, almeno, due, tre anni, per sviluppare, anche così, penso, ci sarà molto tempo, però, ripeto, è un gioco, che, artistica, questo è un gioco, qui, guardate, non ricorda, tanto, il sindaco, Before Christmas, che cambia la faccia, lo stile, proprio, è quello, se, questo gioco, ci mette un timbarto, se, vai a creare un gioco, di te, sarebbe bello, eh, allora, il timbarto, posso provare anche, di, Peter Juice, e, questo gioco, è l'Is Us, a me piace un po', giocare un po', così, stile, Death Stranding, in cui, c'è il viaggio, c'è il treno del viaggio, dell'ambiente, che a volte, può essere anche il nemico, spero che, però, quello che ho vincito, un po' tanto, di Death Stranding, è che a volte, c'è molti, momenti di vuoto, perché, giustamente, si esplora tantissimo, però, ci sta, sono un mercato stile, poi, il, il, Metro Waking VR, questo di qua, pure, buono per, il VR, ma, così, qui, ArcheAge Chronicles, è un gioco, che, mi ha colpito, per quello, che vorrebbe darci, come, storie, abitazioni, raghi, il mediuave, insomma, è una cosa, che mi piace, parecchio, mentre, per Pammu, dove ho un po' paura, per quello che succederà, a Pammu, sinceramente, e, che direi ragazzi, qui in un evento, capito, è un buon evento, da 8, per contenuti, per tempistica, per come è stato fatto, per quello che mostra, si mette i suoi, i suoi, di console, ma, mette in mezzo, a tanta ciccia, giochi anche differenti, che sono, action, rpg, jrpg, adventure, istro, cioè, sono tanti stili giochi, e questo è un po', quello che, voglierebbero, non vogliamo, sempre i stessi giocchi, tutti uguali, i soliti, ma no, vogliamo più giochi, che, perché sono un giocatore, come me, che, amano molti, serie giochi, o altri, che amano, o RPG, o adventure, quindi tu, dai, ai tuoi fan, ciò che vogliono, cioè, dai un po' tutto, per tutti, per rendere felice tutti, in qualche modo, quindi ragazzi, in un evento, ripeto, da 8 su 10, tanta bella, canna sul fuoco, vediamo un po', se, si continua così, vediamo se questa console war, porterà buone cose, secondo me, già ho visto gli eventi, Xbox, quando è stato presentato, il, Indiana Jones, per la volta, e questo evento è stato play, sono due buoni eventi, che hanno avuto, appunto, lo stesso, modo superando, ossia, solo giochi, solo giochi trailer, molti, che hanno dato, non troppo, nulla, col tempo, e alcuni, giochi grossi, che non hanno dato, e quant'altro, però, perché, se c'è avuto, forse, qualche in più, magari, un'epis Santa Monica, un teaser, su Santa Monica, che mi fa, non so, un nuovo World of War, o una nuova EP, si parla anche, di un nuovo EP, di World of War, ci stava, diciamo che, si può capire, un po', che ci vuole il tempo, e poi, il regatore di Horizon, adesso, mi ricordo il nome, della società di Horizon, for me, da questa, che non Santa Monica, capo, mi ricordo il nome, ma, loro hanno fatto, dalle masse, ed è qui, non ho potuto fare altro, e quindi, il terzo titolo di Horizon, che, potrebbe essere davvero, qualcosa di, molto spinto, e, manca, ma, soprattutto, manca un titolo, di cui si è parlato, qualche tempo fa, ma, qui è stato esistente, Wolverine, ragazzi, il gioco di Wolverine, è sparito dalla circolazione, questo, mi fa un po' preoccupare, per questo, non dobbiamo un voto alto, perché, l'ho detto prima, ma, ci sono cose che mancano, appunto, un nuovo Wolverine, e, tornando un po', il video che ho fatto, su PlayStation 5 Pro, io ho detto, per me, PlayStation 5 Pro, la fa uscire, con altri, due, tre titoli, grossi, 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 vai un po', a sussicare più, la tensione, in modo che, magari, puoi dire, ok, PlayStation 5 Pro, è costosa, ma, per chi può farla, se lo fa, è, avrà anche un motivo, sia giochi nuovi, che richiede, molto più potenza, ma, se mi fa uscire, il DC di Lugmake, sia Lugmake un gioco, estremamente altro, graficamente, però, è un DLC, non lo so, ma, se mi fa uscire, insieme a PS5, si, molto bello, mi fa spiegare, su Formula 1, che è un gioco, che lì, pullisce un po', di potenza grafica, su della sua, spattatura, remastered, ok, ma, ma, a vero, Sparement 2, va bene, Gran Turismo, ok, ma, PS5 Pro, se, solo, io te, mi fa uscire, un altro IP, tipo, un Wolverine, cavo, Wolverine e Ghost of the Hotei, che uscivano, 2,5 m, da questo, dicevo, che PS5 Pro, ha un senso di esistere, non solo perché, è stato un po' bene, di PlayStation, che già doveva darmi, quello che viene da PS5 Pro, ossia, la qualità grafica, e la prestazione, che devono essere già garantite, cioè, un 4K, stand FPS, come minimo, deve essere già la base, per il PS5, scusate, ma, vabbè ragazzi, in un video game, se no faccio altri, altra mezz'oretta di video, parlando di questo, allora, ripeto, il vendimento è stato ok, manca qualcosa, ma, non è stato male, speriamo che continui con questa video, speriamo che la cosiddetta console war, porti un'altra giorno a noi fan, quindi avere più giochi, più qualità, dalle, da Xbox, PlayStation, Nintendo, e, e non solo, non l'abbonamento, plus, tic, ta, che poi, non da, granché, o, console che non, non danno tanto, speriamo, speriamo che si consumi un po' su questa scia, comunque, voglio che pensate, vi iscrivetevi ai commenti, ma noi siamo qui con questo episodio, di chiacchierà d'occhio, spero che il video vi sia piaciuto, in caso vi lascia un like, al commentare, di la vostra, che se non potete fatto, iscrivete al canale, attive le campanelline, c'è notifiche, le notifiche che non usciranno, seguite i social, come Facebook, Discord, Instagram, e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godere altri contenuti, di molti termini offerti, e partecipamenti attivi, avete il canale, la comunità, sono vantaggi, richieste, discussioni, inutile c'è anche possibilità, di abbonarsi a YouTube, a parare, ma ciò che parla, sono vettive di vantaggio, a cui beggio e mochi, i video portatevi a prima, ma anche se siete dedicati ai abbonati, e quant'altro, c'è la possibilità, di abbonarsi a YouTube, con Twitch, quindi non voglio seguirmi, e non voglio soltare il mio lavoro, basare le vostre esigenze, con benefici differenti, ovviamente, perché non riescire a fare, i bonus di YouTube, su Twitch, purtroppo non si può fare, ma non ragazzi, comunque ci vediamo, in un prossimo episodio, ma è un prossimo episodio, cacchia ad hoc, o un prossimo vlog, o un video che uscirà, domani ragazzi, nel prossimo interno, passo e chiudo.